Io sono perplesso rispetto a una prospettiva del genere, perché la Russia non è riuscita in 45 giorni di guerra a sconfiggere la sola Ucraina, benché aiutata dalla nostra intelligence. Quindi l'allargamento del conflitto in un momento in cui l'esercito russo non ha dimostrato un'efficienza sul campo tale da imporsi su un nemico più preparato, come sarebbero i polacchi, e lei ha citato i polacchi, quindi mi sembrerebbe un'imprudenza ulteriore, a meno che di non ipotizzare il ricorso ad armi non convenzionali, ma questo francamente non vorrei prenderlo in considerazione in questo momento. L'unica cosa, se mi permettete, che dissento da quello che ha detto il direttore sulle altre cose, sono d'accordo, che in effetti qualche insuccesso l'hanno avuto sul campo i russi fino a questo momento. Sono stati costretti ad evacuare tutta la zona nord e a nord-est di Kiev che avevano occupato abbastanza in forze da un insuccesso militare, cioè sono stati messi un po' in difficoltà dalla resistenza ucraina. Il primo insuccesso è quello di aver previsto anche la fuga di Zelensky che invece non è avvenuta, c'era l'intervista oggi su Repubblica. Sia Markov che ha detto anche che l'esercito ci accoglierà bene. Esatto, che l'esercito ucraino verrà con noi, anche quello non è avvenuto. C'è anche un problema di intelligence che sconta la Russia, forse avevano informazioni sbagliate. Evidentemente sì, avevano delle informazioni ottimistiche proprio sull'atteggiamento non solo della popolazione, ma di una parte della struttura militare ucraina, sia come efficienza sul campo, sia evidentemente come disponibilità a accettare il fatto compiuto di un intervento russo. Torno da Senaldi, leggendo un'agenzia...